Il weekend del 18, 19 e 20 maggio torna il festival Pordenone Viaggia. 21 gli appuntamenti dedicati al viaggio in tutte le sue declinazioni, dal turismo all'avventura, dalle dolomiti friulane all'India. In programma incontri con scrittori e blogger da tutta Italia, visite guidate, stand e mostre fotografiche. Tutto a ingresso gratuito. Pordenone Viaggia è il festival del viaggio dei viaggiatori, quindi è dedicato proprio a loro, ma ai viaggiatori sia nel territorio ma anche dentro al cuore. E c'è un programma ricchissimo, con grandissimi ospiti, conferenze, collaborazioni con tantissimi enti. E quindi c'è Licia Colò, sicuramente la parte più importante, la nostra madrina, c'è la moglie di Tiziano Terzani, c'è Carlo Buldrini, un caro amico del Dalai Lama, c'è Daniele Molmenti, c'è Frank Lotta di Radio DJ, gli ospiti sono tantissimi. Quindi 18, 19 e 20 maggio in Biblioteca Civica Pordenone, tutto il programma su pordenoneviaggia.it e sul nostro Facebook, sempre Pordenone Viaggia, Instagram, Twitter, tutti i social. Già diverse le richieste di alloggi dal Friuli del Nord Italia per partecipare alla manifestazione, che sui social ha registrato già circa 150.000 contatti. La rassegna è sostenuta da un pool di partner con capofila il comune di Pordenone. È una manifestazione che ha tante valenze, perché consente anche di riscoprire, di valorizzare le parti più belle del nostro territorio. È quindi un contenitore di grande valore che abbiamo sostenuto e che sosteneremo anche in futuro. Credo che sia una delle iniziative dal punto di vista della cultura ecologica, della cultura del viaggio, dell'aggregazione e della valorizzazione degli elementi della città più importante che abbiamo nel nostro territorio.